Sono settore lift. Le pompe per il settore lift rappresentano il primo prodotto del mio business aziendale, introdotto oltre 40 anni fa sul mercato. Negli anni mi sono evoluta e oggi riscuoto un enorme successo a livello internazionale. Oltre ad una vasta gamma di pompe a viti, specifica per il settore lift, ti offro soluzioni all'avanguardia nella progettazione e produzione di scambiatori di calore, aria, olio e frigoriferi industriali. Sono Seim. We know how.